La linea di grusse moventi elettriche Lige torna a far parlare di sé. Lige nasce nel 1945 dalla passione e dall'esperienza di licenziato Gennaro. Lige inizia a farsi conoscere diventando così un punto di riferimento nel mondo del sollevamento. Oltre alla produzione di grusse moventi azionate da motore diesel o benzina, viene introdotta nella gamma Lige anche la gru elettrica a batteria, permettendo di raggiungere nel corso degli anni alti livelli di qualità e di efficienza. Nel 2015, dopo alcuni anni di interruzione, JMG Cranes, azienda già affermata nel mondo delle gru pick and carry, acquista il marchio Lige. Dal design sempre più moderno, Lige si mantiene un'icona della semplicità, fornendo nel contempo ergonomicità e velocità nello svolgimento del lavoro. I modelli realizzati sono Lige 20 a timone, Lige 30, 40, 60, 90, 110, dotati di cabina che presentano le seguenti caratteristiche. Massima visuale, ampia e confortevole cabina per i modelli Lige 30, 40, 60, 90, 110, baricentro basso, LMI, limitatore del carico e del momento, a norma CE, controrotazione sulle ruote anteriori per ridurre l'angolo in fase di sterzata, trazione anteriore. Le gru Lige sono dotate dei seguenti optional. Jib meccanico, ruote antitraccia, argano idraulico, carica batteria a bordo, rabbucco automatico della batteria, bundle loader, accessorio per lo scarico di fasci di marmo da container. La sede di produzione Lige si trova a Sarmato, in provincia di Piacenza. La tradizione Lige continua, perché la sua era è senza tempo.